Siamo a Beccacci, con le Alpi Piemontesi, facciamo in montagna, quelle per 300 metri. E' proprio così buona stamattina. Un posto bellissimo, grazie anche alla piccola Lidi, che è stata così brava. Un posto bellissimo. 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 bravo lady qui ce n'è un'altra bravo lady bravo lady bravo 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 eccoci qui notte e mezza ci ha già fatto due peccati non 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 dell'anno, però è sempre un bel gallo soddisfazione, le mestie qua sono terribili bellissimi eccoli qua, due bei gallotti che belli, che belli uccelli, spettacolo questo qua non è tuffo a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.